A Rimini, salvo imprevisti, c'è ancora la seduta di rifinitura in programma domani mattina, Silvio Baldini sembra orientato a confermare l'undici sceso in campo contro la Torres. Sulla via del completo recupero, ma reduce da uno stiramento alla coscia, Pierozzi non verrà rischiato. Da capire solo se a centrocampo Lonardi sarà preferito a squizzato. Tifosoria in fermento, sugli spalti del Romeo Neri saranno almeno 800 i sostenitori di Fede Biancazzurra. Chiusura settore ospiti domani alle 19. Curiosità, primo incrocio tra Baldini e l'allenatore dei Romagnoli Antonio Boucher, che ad Empoli è stato per due stagioni alle dipendenze della tecnico Biancazzurro in Serie A nel 2002-2003, salvezza centrata e successivamente in B nel 2008-2009. In quegli anni punto fermo della tecnico toscano. Con la maglia dell'Empoli, Boucher, esterno centrocampista di grande gamba, ha collezionato circa 300 presenze, di cui 165 in Serie A. Contro il Pescara, due gol in tre gare. Nelle immagini stagione 2004-2005, Empoli-Pescara 2-1. È sempre in B nel 2011-12, seconda giornata. Pescara-Empoli 3-2. Boucher realizza il momentaneo 2-2 con un colpo di testa. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha cominciato ad allenare i ragazzi dell'Empoli, centrando due scudetti, prima alla guida dell'Under-16 nella 2019, poi della formazione primavera nella 2021. Baldanzi, Fazzini e Aslani oggi in A sono stati forgiati dal tecnico di Gragnano. Lo scorso anno, prima esperienza nel calcio dei grandi come allenatore della Vibonese in D. Di fatto un'ottima stagione, chiusa al terzo posto alle spalle del Siracusa e del Trapani, che ha stravinto il girone. Quindi la chiamata del DS del Rimini, l'ex Antonio Di Battista, e la possibilità di cimentarsi per la prima volta da allenatore tra i professionisti. Finora un punto in due partite. Un pareggio al debutto a Carpi, 2-2, e un K.O. sabato scorso davanti al pubblico amico contro l'Entella, 1-2. In entrambe le occasioni, Romagnoli sempre rimontati. Sistema di gioco 4-3-3.